Paolo Cevoli, Romagnoli DOP, puntata, serie, numero? Allora, la prima serie, devo dire, pensavamo che veniva bene, invece è venuta benissimo. La gente si sono divertiti, continuano ad aumentare le visualizzazioni, le interazioni, quindi siamo veramente molto contenti, devo dire, questa collaborazione con l'APT, con VisitRomagna, che ci dà un gusto di poter raccontare questa terra e questa gente. Com'è questa Romagna? La Romagna, penso che sia la terra benedetta da Dio, dalla natura, soprattutto abbiamo i romagnoli, e noi vogliamo parlare proprio dei romagnoli, perché le bellezze della terra sono tante, ma la cosa più bella è proprio la gente. Anzi, addirittura vogliamo dire che la romagnolità non è solo la gente, ma la romagnolità è un modo di essere, uno stato dell'animo, quindi questa cosa qui è una cosa che forse tutti possono anche diventare romagnoli, chissà. Però non tutti i romagnoli sono uguali? Eh no, no, logicamente ci sono delle differenze abissali fra l'uno e l'altro, come è giusto che sia. Però tutti hanno una cosa in comune, anzi, secondo me tre, che sono la sburonaggine, il patachismo e l'ignorantezza. Queste tre cose ci fanno di noi un unico, come si dice, quello lì, per tutto il mondo. La Romagna e i romagnoli sono la speranza del mondo, ragazzi, noi siamo dei sburoni che solo noi.